Un caro saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, un caro saluto, parliamo di Pisa Inter anche se è un amichevole e voglio dire dare i giudizi definitivi su un amichevole è sempre molto difficile. Prima di tutto però fatemi ringraziare, lui non vuole mai essere citato però mi fa dei regali meravigliosi, l'amico Beppe, guardate questa è una riproduzione diciamo le cose come stanno, una riproduzione di una maglia da portiere dell'Inter Lecoq Sportif del 1986, guardate è meravigliosa, su ebay potete trovarla, lui non vuole neanche essere citato, basta che mettete maglia Inter 1986 e lo andate a beccare, però lo ringrazio perché a me l'ha omaggiata e quindi mi sembra doveroso comunque citarlo. C'è una situazione della quale parlerò diffusamente in un prossimo video editoriale ma è una situazione che riguarda la Juventus, in particolare Chiesa, Chiesa è un giocatore che all'Inter può interessare a parametro zero quindi sicuramente non quest'anno, però sto prendendo informazioni, sto messaggiando lo dico anche pubblicamente, un po' ausilio Piero perché questa è una situazione che l'Inter segue con distacco interessato, a me sembrano dei pazzi alla Juventus, lo dico, cioè a mettersi nelle condizioni che se un domani, questo che parliamo sempre dell'attacco dell'Inter che non ha alternative, adesso a me non sembra per carità poi le alternative possono essere migliorate, ma alla Juventus se viene un raffreddore a Vlaovic ha soltanto Milik al momento e francamente questo trattamento che sta ricevendo Chiesa, una sorta di mobbing, insomma francamente non convocato, sì un giorno ci si chiede ma è tra gli esuberi o in gruppo, secondo me è molto pericolosa, però ragazzi sono problemi della Juventus e di Giuntoli che deve vendere un mare ancora di giocatori e non è facile, come non è facile per l'Inter che però mi sembra onestamente abbia qualche problema in meno. Pisa-Inter, veniamo a Pisa-Inter, beh un po' mi dispiace per Filippo, Filippo Inzaghi che non riesce proprio a battere il fratello nemmeno una volta, neanche in amichevole, questo era il settimo confronto, ho letto da qualche parte, ci ha andato veramente molto vicino perché l'Inter ha pareggiato a Pisa all'ultima azione utile, però insomma devo dire che Simone il demone di Piacenza è stregato anche per suo fratello, però al Pisa squadra nerazzurra che quindi dobbiamo seguire sempre con particolare simpatia, insomma non ce l'ha fatta nemmeno questa volta. Che cosa possiamo dire di questo amichevole? L'allarme sugli attaccanti c'è sicuramente, ma ripeto bisogna sempre anche confrontarsi con gli altri perché se quello dell'Inter per Correa adesso ne parliamo naturalmente o per Arnautovic, insomma ci sono preoccupazioni ma io credo, ripeto, che questa situazione verrà risolta. Io sono sereno, sono sereno perché ho indicazioni che questa situazione verrà risolta, poi c'è la gente sempre che ha fretta, ricordo che il mercato finisce due settimane dopo l'inizio del campionato. Anche l'anno scorso Sanchez arrivò negli ultimi giorni di mercato, quindi sia per il braccetto di sinistra che continuo a pensare che il nome vero non sia ancora uscito, per quello che sto cercando di tempestare ausilio, ma tanto non mi farà capire nulla. Tutti i nomi che avete letto fino a questo momento secondo me non sono veri o comunque fanno parte di un casting dove ci sono anche altri nomi. E io continuo a pensare che il braccetto di sinistra vero che poi arriverà, magari a campionato già iniziato, questo nome non sia ancora uscito, penso io. Lo stesso riguarda per l'attaccante, inutile che continui a parlarvi dei problemi extra calcio di Gudmundson e della fretta del Genoa di cederlo. Gudmundson è un'alternativa, ma ci sono altri giocatori in giro, c'è Marziale, insomma ce ne sono altri, ma anche qui si è fatto il nome di Bonazzoli, ma non vedo che scalda moltissimo al momento, ma forse è strategia. Insomma, certamente l'Inter deve rinforzarsi nelle alternative in attacco. Io tutta questa cattiveria che vedo su Arnautovic francamente non la condivido, però parlavo anche con Spillo Altobelli, insomma nell'ambiente si dice che poi Arnautovic alla fine vuole giocare, si convincerà di dover giocare e quindi troverà magari una sistemazione all'estero e in quel caso arriverà la punta. Adesso capisco che c'è l'infortunio di Taremi, che però mi sembra una cosa insomma temporanea, voglio dire partire alla prima giornata di campionato con Turan e con Arnautovic che sarà ancora qui, forse anche Correa, non mi sembra una tragedia andare a Genova così. C'è anche un'altra soluzione che è stata provata, Mkhitaryan come seconda punta, non è la prima volta che lo fa, lo ha già fatto in carriera e presenta a partita in corso il vantaggio di liberare anche uno spazio a centrocampo, magari per Zelinski o Frattesi. Comunque cerchiamo di capire in questa amichevole per quel che si può dire Pisa-Inter. Insomma quello che ha detto il demone di Piacenza, Simone Inzaghi, che alla fine l'Inter non ci sta a perdere ma è anche in amichevole, insomma mi sembra abbastanza vero. Non ha perso nemmeno questa partita, ma è chiaro che i carichi di lavoro si fanno sentire, adesso vedremo con l'Allity Ad, poi vedremo col Chelsea e poi sarà campionato. Io dico sempre che anche le prime giornate di campionato di agosto sono quasi precampionato perché sei ancora in realtà in preparazione. Allora mi sono segnato un po' di cose, non so se le condividete. Che l'Inter non ci stia mai a perdere nemmeno in amichevole mi sembra una cosa positiva. Che Filippo non riesca a battere Simone è un dato statistico al settimo tentativo. Partita curiosa perché il Pisa ha trovato il gol in chiusura di primo tempo, difesa dell'Inter un po' ballerina devo riconoscere, e alla fine ne ha approfittato su palla inattiva Piccinini. E anche l'Inter ha trovato il gol all'ultima azione con Bissec, il nostro bistecone che si è buttato in area in gruppo su punizione calciata da Cialanolu e alla fine è proprio l'ultima azione utile ha chiuso 1-1. Ma Bissec è stato tra i migliori. Ricordo anche un salvataggio sulla linea, su Touré, e anche delle buone avanzate. Cioè Bissec è sicuramente una nota positiva. Io ho visto positivo anche Barella in regia, Frattesi che ci ha provato, che ha preso anche un palo, qualche buona idea di Zielinski, delle verticalizzazioni. Non dimentichiamo Acerbi che sta riprendendo il possesso della difesa in fase direttiva. Comunque ha giocato dal primo minuto, poi è uscito. Mkhitaryan a un certo punto è andato a fare anche la seconda punta, poi è calato, ha sbagliato anche qualche appoggio semplice, ma mi è sembrato buono. Secondo me queste sono le note positive. Le note, diciamo così, negative. Ma negative si fa per dire. Di Marco mi è apparso a rientro un po' in ritardo di condizione, mi ha appena fatto un gol incredibile qualche giorno fa a Las Palmas. Carlos Augusto non è un attaccante, ha avuto due occasioni per sbloccare sta partita, doveva essere più freddo, sicuramente sotto porta. Poi negativo, ma siamo sempre lì, se vogliamo. Ecco, no, devo dire che non mi è piaciuta l'uscita di Joseph Martinez, infatti secondo me il titolare Salar Sommer, ma non è che lo giudico per un amichevole, ha fatto un'uscita folle e poi c'è stato il salvataggio sull'anere di Bisse. Ecco, anche Joseph Martinez ha fatto un'uscita che non ha senso, però la sottolineiamo, visto che in amichevole parliamo di tutto, dobbiamo dare, i giornalisti devono dare i giudizi dopo anche una piccola partita, come questa. Però quella cosa lì di Martinez, no, non mi è piaciuta proprio. Ragazzi, l'attacco io, i giovani, i giovani, allora Fontana Rosa è stato bravo, prudente, ha fatto il compitino, Camatè, che è uno che comunque ha fatto complessivamente quasi 60 partite in primavera, ha fatto una quindicina di gol, 9 assi, si vede che ha i numeri, ma non credo ovviamente che possa essere uno di quelli che rimangono, però vedete che l'Inter certi giovani li tiene sotto controllo. Vedete Carboni, Carboni firmerà fino al 2029 proprio perché l'Inter lo manda a giocare di più al Marsiglia, ma lo tiene sotto controllo. Citavo nell'ultimo video editoriale molte persone disperate quando partirono, non so, Destro per avere Ranocchia, Zaniolo per avere Nainggolan, non parliamo di Casadei, insomma Carboni è diverso e mi ha ricordato uno giustamente quando l'Inter cedette acqua fresca per prendere Milito, madonna le polemiche per l'accessione di acqua fresca che sembrava dovesse diventare il più forte attaccante italiano, poi non è stato così, con Milito ha fatto il trippio, quindi se vedete partire un giovane capisco che dal divano di casa uno ha, voglio dire, delle impressioni, ma non sono le impressioni che poi ha la gente che lo fa di mestiere all'Inter, poi si può sbagliare e che lavora tutti i giorni non a caso, Carboni, comunque te lo tieni legato, te lo tieni agganciato, come ti sei tenuto comunque agganciato Fabiano, cioè c'è qualcuno che poi resta agganciato, io terrei anche Kamatè, però ripeto, non sono io che scelgo e comunque vedremo. Ragazzi le punte, le punte che cosa devo dire? Salsedo mi sembra che l'esperienza nel top club non ce l'abbia e si è visto, Correa Arnautovic è entrato, ha giocato per la squadra, si è mangiato un altro gol, ha cominciato subito la prima giravolta a toccarsi la gamba, a tirare sul pantaloncino e quindi lì altro allarme, perché adesso è fuori anche Taremi, però mi pare che poi la partita l'abbia chiusa, non ho notizie comunque di un Arnautovic infortunato e Correa ragazzi io non so cosa dire, lo so che gli inediti di tutti i colori effettivamente non ne azzecca una, mi pare che ormai questo giocatore sia entrato in un vortice psicologico dal quale è difficile uscire, abbiamo sentito di molti interessi ma secondo me alcuni gli ha ventilati più che altro il suo procuratore, io credo che l'Inter a un certo punto in un modo o nell'altro farà meno di Correa, poi se non riesci a completare il mosaico te lo terrai fino a gennaio come quinta punta e ragazzi che cosa dobbiamo fare? Adesso non è che dobbiamo non dormire la notte per Correa, a me dispiace per questo ragazzo perché insomma io me lo ricordo alla Lazio, voglio dire nessuno ha mai pensato che Correa potesse diventare tra i primi dieci attaccanti del mondo, però è anche vero che in questo momento non gli riesce proprio niente, non è fortunato, non gli va bene un rimpallo, ha questa faccia sicuramente sofferente, triste, insomma è entrato in un vortice psicologico terribile, io quando vedo un ragazzo calciatore che costa, che guadagna, ragazzi sono d'accordo con voi c'è gente che fa la vita molto più dura nel mondo reale, non sto qui a dire salvate il soldato Correa, non sto dicendo questo, lo avevo detto per Sensi perché Sensi poverino a star male non è una colpa, ma mi sembra veramente che il Tuku psicologicamente non riesca più, non riesca più a uscire da questo tunnel in cui è entrato, problema che lui si sente da Inter ma in realtà è chiaro che non lo è in questo momento e quindi ragazzi cosa vi devo dire, non sparate sul pianista si diceva, continuate a sparare su Correa ma se Correa avesse fatto due gol, allora mettiamola così, a Pisa, voi avreste cambiato idea su Correa, no, sappiamo benissimo che Arnautovic e Correa sono rispetto a Lautaro, Turan e Taremi delle seconde scelte e anche di gran lunga, possiamo discutere io poi su Arnautovic, non sono negativo come molti, Correa ragazzi non c'è più nulla da fare mi sa, non c'è più nulla da fare, non è che se per caso trova un gol si sblocca, aveva segnato anche con Lugano, un bel gol, però sono quelle sgambate in famiglia, Correa è in una situazione psicologica veramente molto pericolosa ma più che per l'Inter, per lui e ragazzi c'è poco da fare, a me dispiace quando vedo le prede, le prede perché è una preda in questo momento facile Correa, sembra una gazzella con tutti i leoni attorno e con gli avvoltoi che sono lì pronti sul cadavere in decomposizione, ragazzi abbiate pazienza, io continuo a pensare che inizia il campionato e le ultime due settimane di mercato a campionato iniziato saranno fondamentali per piazzare tutta una serie di giocatori e mai che vada Correa, ripeto, anche perché regalare il cartellino ma perché? Tentelo ragazzi per fare la, arrivo a dire la panchina o la tribuna o l'attaccante ha giunto e a gennaio speriamo che qualcosa succeda, certo non è successo niente fino ad oggi, vediamo se negli ultimi giorni di mercato lui accetta anche destinazioni perché per forza dovrà accettare, semmai spunteranno destinazioni ovviamente meno prestigiose, però vi pregherei ragazzi siamo interisti, capirai come sparare sulla croce rossa, che soddisfazione c'è a svegliarsi la mattina e sfogare le proprie rabbie su Correa, ragazzi non ne prende una, che cosa devo fare? Ma l'Inter lo sa, lo vede, lo capisce e accompagnare questo giocatore all'uscita definitiva è un problema che non ha solo l'Inter ma ripeto la Juve ne ha parecchi di problemi, meccaniche rifiuta ogni destinazione, Chiesa non ne parliamo, stiamo arrivando ai limiti del mobbing, insomma come vedete i problemi non li ha solo l'Inter, anzi posso dirvi tra tutti i problemi che si possono avere mi sembra che quello di Correa rispetto ad altri visto che non è, il campionato di Serie A è sempre un confronto tra tutte le squadre quindi mi sembra che gli altri abbiano problemi anche un po' più seri. Questa è la mia analisi del dopo Pisa-Inter, fatemi sapere naturalmente cosa ne pensate, magari non sarete d'accordo con nulla di quello che ho detto ma io vi voglio sempre bene la nuova maglia. Questa è solo una riproduzione che mi ha dato l'amico Beppe, ragazzi ma vi rendete conto che maglia avevamo una volta. Vabbè ma questa è una riflessione, questa è vintage, infatti c'è solo una stella. Bello è che tutto quello che abbiamo usato fino ad oggi è ormai vintage, però il vintage è bello perché c'è una stella sola, quindi il mondo è cambiato con la seconda stella. Vi saluto e comunque nel prossimo video editoriale dopo aver preso un po' di informazioni anche dai mercatari effettivi che io sta situazione di chiesa la voglio affrontare perché per me sono dei pazzi. Io lo dico per me alla Juventus a mettersi in questa condizione e portati il giocatore a parametro zero. No, vai a litigare con uno che in questo momento una parte di coltello, mettiamola così, dalla parte del manico comunque ce l'ha. Per l'ingaggio, io certe scelte veramente non le capisco. Vabbè comunque l'Inter è alla finestra ma per l'anno prossimo, quindi adesso dobbiamo giocare tutto un campionato e chiesa non giocherà sicuramente nell'Inter. Ciao a tutti.